vediamo come fare un trucco occhi semplicemente con una matita marrone partiamo subito dai concetti principali molto utili per chi si inizia a truccare alziamo il mento andiamo applicare la matita a piccoli tratti in un modo non preciso logicamente io corretto la mia base delle occhiaie compresa la palpebra mobile fissa con un fondotinta in stick della colorazione lace in questo modo la mia matita sarà molto più scorrevole la metto in un modo non preciso e inizio a sfumare con un pennellino di precisione che è questo avendo messo un fondotinta in stick la mia matita sarà molto più scorrevole vado quindi a lavorarla subito dall'attaccatura dell'angolo del mio occhio se non avete difficoltà tenete un pennello una matita qualcosa come traccia quindi saliamo verso le sopracciglia e andiamo qui dove abbiamo l'osso a creare questa ombreggiatura sempre sempre con lo stesso pennello se voglio ammorbidire il tutto prenderò un pennello più ampio da sfumatura come questo al solmento la mia palpebra si distende e io andrò ad alleggerire la mia sfumatura in questo modo qua con un dito vado leggermente a fare una leggerissima pressione al centro del mio occhio e vado a dare una definizione in fraccigliare dei piccoli tocchi che andranno a definire un pochino di più il mio trucco con un pennellino angolato vado a sfumare la mia matita prendo la mia matita marrone e vado leggermente solo nell'ultima parte del mio occhio e sempre con il pennellino di precisione che ho utilizzato prima cioè questo vado a sfumare la mia matita verso l'interno del mio occhio di modo che do una continuità al mio trucco senza andare a appesantire troppo il tratto della matita per le più esperte o per chi si vuole addentrare possiamo anche fare un infraccigliare questo mi aiuterà a far sì che il mio occhio sia ancora più definito questa volta non utilizzo una polvere un ombretto in polvere per fissare la mia matita ma utilizzo una cipria con un pennello la sfumatura lo prendo è una cipria trasparente traslucente oltre a fissare anche il fondo in stick lace con cui ho corretto le mie discromie vado a fissare anche la mia matita per chi invece ha problematiche proprio importanti che la matita cola abbiamo anche dei matitoni waterproof e water resistant ho utilizzato una matita occhi dalla colorazione proper molto resistente ma morbida perché ha olio di jojoba ma una volta fissata non si muove più se volete ulteriormente un fissaggio applicate una cipria naturalmente una cipria trasparente come quella che utilizzo io che è di unique l'occhio infossato l'occhio incavato può essere aiutato con una definizione di mascara io sto utilizzando quadra un trattamento intensivo delle mie ciglia perché contiene siero ciglia primer ciglia contiene anche fibre a mascara con fibre a stella contiene anche un fissaggio tubing che farà sì che il mio mascara non coli chi vuole avere più definizione o maggiore definizione è un mascara che si può stratificare cioè fare più passaggi con il tempo le nostre ciglia possono anche diventare più belle e non spezzarsi opacizzato la mia base viso da questa parte con la nostra cipria beold microcapsule di acqua che a contatto della pelle si spaccano e da questa parte come vedete sono un po più lucida quindi utilizzo la cipria per opacizzare il tutto in questo modo naturalmente con un pennello a setole ampie perché questo è un pennello apposta per le polveri sulle labbra ho applicato una matita rossa che si chiama pride e ho applicato un lip gloss quindi ho creato una barriera per non far migrare il mio lucida labbra questo è un lip gloss rosso dalla colorazione rossa a me piace molto il colore rosso sulle labbra che mi andrà a idratare le mie labbra e al tempo stesso mi dà anche colore si chiama looker e questo è il mio trucco di oggi occhi delicati ho solo usato una matita e questa è la mia proposta di oggi di trucco semplice per tutte le donne di qualsiasi età e per affrontare al meglio la tua giornata per qualsiasi tipo di contatto sono disponibile su whatsapp il mio numero è 347 5702 191 e ti lascio al prossimo video buona giornata